Per la pace! Il vino unisce e non divide! Il vino unisce e non divide! Perché questo flash mod per la pace? Abbiamo approfittato di questa vetrina internazionale come il Vinitaly per lanciare il nostro messaggio di solidarietà e per la pace contro la guerra. Molte delle nostre aziende al femminile sono qui presenti con le proprie aziende e di conseguenza volevamo approfittare anche di questo momento per dire che nonostante in questi giorni siamo impegnate nella proposta dei nostri vini agli operatori del settore, non ci dimentichiamo di chi in questo momento è nella sofferenza e vogliamo essere solidali con tutte queste donne che hanno lasciato il loro paese, spesso i loro mariti, i loro compagni, le loro case e le loro attività. Nei cartelli c'è scritto sviluppiamo gli arsenali e riempiamo i granali, la tendenza invece è aumentare le spese militari per non fare invece come dicono, cosa farete per contrastare questa linea di... Serve un cambiamento sicuramente nel mondo anche dell'agricoltura, si sta già pensando come fare per ritornare a delle produzioni che sono state in questi ultimi anni abbandonate perché eravamo convinti di poter acquistare sempre all'estero. Torneremo molto probabilmente a produrre molte delle eccellenze che abbiamo abbandonato in passato e torneremo a produrle qui in Italia con la creazione anche di tanti nuovi posti di lavoro anche per le donne. Donne con gli retti per la pace! Donne con gli retti per la pace! Donne con gli retti per la pace! Grazie.